buongiorno a tutti monteroso foggia uno pari diciamo che il convento questo passa meno male meno male che ci sono dei elementi nell'anno precedente di zeman che stanno tenendo combatto questa squadra se no eravamo l'ultimo inglesivo quello che stanno facendo quello che sta facendo l'allenatore dobbiamo dire già grazie non ci sono degli attaccanti dei veri attaccanti e ne vediamo la differenza vediamo la stanchezza vediamo non sono concentrati di cui fare tante partite e noi e non avere la concentrazione come di solito essere cinici sull'aria avversario dobbiamo dire già per quelle che stanno facendo grazie però sinceramente così non possiamo andare avanti perché andiamo proprio male siamo messi male proprio non hanno non hanno una continuità e la prossima è con i messina e di cui è anche una bella squadra tosta abbiamo visto che se non c'hai degli attaccanti veri tu non vai avanti non vai per niente avanti ci vogliono degli attaccanti veri non hanno una lucidità una continuità nel campo si nelle discese su nell'aria che noi creiamo si vede la differenza siamo siamo forti là in quei due punti però non abbiamo un registra che crea la possibilità di fare gol avanti però manca pure chi li deve fare di cui dispiace molto vedere questo pareggio uno a uno ma sinceramente dobbiamo dire grazie perché se no ci andava anche male società laureolo si dimette e allora la c'è un problema dopo di un mese e venti giorni si dimette come ha parlato all'inizio in conferenza stampa come ha detto lui la situazione si risolve dentro lo spogliatore chiudendo nessuno io e si dimette allora vuol dire che c'è un problema in società e zeman non era scemo di non accettare di nuovo o di tante cose di cui c'è un problema serio lì canonico rimane sempre l'azionista di maggioranza però dobbiamo vedere la situazione come va a finire con gli altri azionisti chi vuole prendere il foggio mo si fanno dei dei nomi che vogliono acquistare il foglio ma sinceramente se non si vede il succo il resto è chiacchiera sperando che non facciamo la fine che abbiamo fatto l'altra volta con i sanelli sinceramente perché avere un altro un'altra botta è pesante adesso dire questo presidente che intenzione già sinceramente per me non mi sono fidato dal primo giorno e non mi fiderò mai perché per me c'ha due facce e due facce aveva di cui la situazione della società bisogna vedere un po come va a finire chi prenderà le redini in mano chi vuole gestire il foggio chi vuole gestire questo gruppo questo gruppo in questa situazione si trovano in una situazione che non sanno la società com'è di cui si rimane sanno che il presidente è canonico lui è azionista in maggioranza dobbiamo vedere se vengono messi i pagamenti in ordine come si deve dobbiamo guardare tante situazioni che non è bello dispiace molto vedere il nostro foggia in questa maniera di società riguardanti giocatori il gruppo c'è meno male che ci sono dei elementi come ho detto prima che sotto al boema stanno mantenendo bel saldo il gruppo i giovani vogliono si vede la loro continuità che voglia di giocare nel campo di esprimersi in campo sulle fasce attaccare sulla difesa c'è però non hanno una continuità fisica di tenere dei ritmi perché giocare dei ritmi di velocità non è da tutti bisogna avere anche un tipo di allenamento fra l'allenamento di Zemmle l'allenamento di Gallo sono molta differenza ecco che vuol dire avere i ritmi delle continuità dentro dei ritmi di giocare la palla di giocarla di creare azioni da gol come noi stiamo vedendo che sulle fasce creiamo azioni da gol nell'area avversaria e sfruttiamo però siamo anche deboli di cui bisogna guardare un po' tutta la dinamica adesso c'è la partita con i Messine che è importante di cui vedremo un po' come si svolgerà dentro al campo come la vogliono impostare vediamo la loro continuità se hanno il fisico di portare avanti 90 minuti e di portare in vittoria i tre punti che sono importanti adesso più punti facciamo meglio è comunque ci troviamo una situazione in classifica non male però si comincia a sentire in questi tre quattro partiti di continuità abbiamo visto che adesso comincia il derby con il cerignolo adesso abbiamo strappato il pareggio di cui si comincia a vedere un po' il calo fisico eppure insomma non avesse non avesse sinceramente però vedremo un po' con i Messina cosa faranno valuteremo un po' tutta la situazione di questi giocatori se a meno che ci salvano ci dobbiamo salvare a meno quello e poi vedremo un po' la situazione della società perché adesso basta c'è noi siamo stanchati per vedere tutti questi purcarini nella società ci siamo proprio stanchati veramente comunque sembra forza forza per me fino alla morte perché la morte mia la tengo a cao ciao ciao